Lo strumento dei contratti di fiume per la tutela dei corsi d'acqua a confronto a Torino di Sangro fra gli amministratori di 13 comuni e il coordinatore nazionale Massimo Bastiani. Occupiamo ora dei contratti di fiume istituiti per programmare interventi urbanistici e pianificare azioni finalizzate alla tutela dell'ecosistema a confronto a Torino di Sangro sulla salvaguardia del territorio. Celeste Accofredda. Il fiume Sangro è la riserva regionale Lecceta di Torino di Sangro, due delle tante ricchezze naturalistiche della nostra regione. Un bene comune da amministrare attraverso i contratti di fiume in concerto con istituzioni, autorità di vaccino, popolazioni che vivono lungo i corsi fluviali e associazioni. 13 comuni del territorio hanno partecipato al convegno che ha colto l'importanza di una tematica più che mai attuale alla luce di cambiamenti climatici, rischi fluviali e idrogeologici, inquinamento, pericolo di esondazione. E i contratti di fiume diventano collaboratori molto validi per la salvaguardia dell'ecosistema. Domenico Moccia, professore di urbanistica nell'Università Federico II. Il metodo partecipato di forte integrazione all'interno delle popolazioni possono rendere le azioni e i progetti che le autorità di vaccino debbono compiere per migliorare lo stato dell'ambiente e la sicurezza dei territori, possono rendere queste opere più accettate dalle popolazioni e efficaci quindi nelle loro attuazioni. I contratti di fiume diventano quindi uno strumento radicato nelle comunità locali e si prendono carico di politiche ambientali affinché ci si adoperi per scongiurare il peggioramento delle condizioni in cui versa il territorio. L'Abruzzo dichiara Massimo Bastiani, coordinatore nazionale del tavolo dei contratti di fiume, deve scegliere di tutelare costa e fiumi scartando di finanziare a pioggia i contratti. Incentivi all'interno della nuova programmazione dei fondi strutturali, quindi tra 2021 e 2027, di dare un'accelerazione proprio alla realizzazione di quegli interventi che vengono decisi insieme alle popolazioni e che quindi hanno anche una maggiore accettazione delle persone e che poi non ultimo possono provare a provocare anche degli effetti positivi, cioè dare valore agli investimenti.